Abbiamo ora in collegamento da Portemone il dottor Marco Valenti che ci darà delle anticipazioni sulla sessione clinica del venerdì pomeriggio al congresso internazionale IOTO. A te la linea Marco. Grazie della linea. La mia relazione concluderà la giornata di venerdì 18 novembre. Analizzeremo insieme a tutti i relatori alcuni casi clinici e cercheremo di capire e sentiremo dalla loro viva voce quali sono i materiali protesici ideali in ogni situazione clinica sulla base delle caratteristiche estetiche e biomeccaniche dei materiali stessi. Vi aspetto quindi numerosi al 35esimo congresso internazionale IOTO. Mi raccomando non mancate. Grazie a tutti.